Il Natale è la festa per eccellenza della famiglia e dei bambini ed è proprio a loro che l'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha voluto dedicare il nuovo parco giochi dell'Olivaro. All'interno del calendario delle buone feste abbiamo inserito l'inaugurazione del parco giochi inclusivi all'interno del quartiere dell'Olivaro, che non è soltanto un'opera pubblica ma è soprattutto un luogo dell'inclusività, della socialità. In un quartiere forse spesso trascurato è che oggi con il parco giochi vogliamo proprio dedicare ai bambini, alle famiglie, un luogo dove poter socializzare, dove poter giocare, dove potersi divertire. In questo quartiere dove l'unica forma di aggregazione, a parte la scuola, era la chiesa di San Domenico ed è proprio lì, a fianco alla chiesa, che abbiamo voluto dare colore, allegria, anche con i murales dedicati all'oro, ai bambini. Al quartiere dell'Olivaro l'amministrazione comunale sta dedicando un'attenzione particolare, con interventi di pulizia e di decoro urbano, con il completamento dei nuovi alloggi popolari e delle procedure di assegnazione e tante altre iniziative in itinere. Con l'inaugurazione abbiamo voluto dare anche un tocco di colore, ma soprattutto di luce e di speranza, con l'accensione dell'albero proprio qui all'interno del parco giochi inclusivo. Un quartiere che in questi mesi, grazie all'attenzione e alla sensibilità dell'amministrazione comunale, è attenzionato da una serie di interventi, dai marciapiedi, attività di decoro, di inclusione, proprio perché vogliamo che nessuno resti indietro.